Va a prendere il peso, 19.30 al quinto lancio qui ad Ancona, il 28 gennaio ha lanciato a 19.54. Vediamo, Carmelo Alessandro Musci, poggia, peso, parte subito, spinge forte, fortissimo, fortissimo Carmelo Alessandro Musci! Signore e signori, aspettiamo l'ufficializzazione ma mi sa che è record italiano! Aspettiamo la misurazione, mamma mia, vedete volare alto il peso di Musci, altissimo e fortissimo! Andiamo a vedere la misura, tarda un po', non arriva, si misura ancora! Suspense, ancora Musci! 19.82! Record italiano! Record italiano! Carmelo Alessandro Musci! Aden e Scrivia Molfetta, l'avevamo detto ad occhio, era lungo, lunghissimo! Migliora di altri 28 centimetri, primato italiano che aveva stabilito il 28 di gennaio, proprio qua ancora una serie, partita tranquilla, 17.28, 17.65, 18.37, si è scaldato al quinto lancio al 19.30, ultimo lancio di gara! 19.82, grande lancio di Carmelo Alessandro Musci, Aden e Scrivia Molfetta, il pugliese, si fa la foto accanto al tabellone che dice, primato italiano, primato italiano! Carmelo, qui accanto a questo, veniamo a passaccare a lilla dell'oceano! Carmelo, vieni da noi! Bravo Carmelo Alessandro!